Ho scelto di fare questa candidatura nel 2020 proprio perché non mi piace essere una persona passiva nella vita della città ma voglio nel mio piccolo cercare di portare il mio contributo e grazie al gruppo di Oraghinelli potrò dare vita a questa mia volontà, chiamiamola così. Fabio Lucci, 34enne geometra, subentra in consiglio comunale a Roberto Bardelli per il periodo corrispondente alla sospensione di quest'ultimo, la sospensione relativa alla condanna in primo grato di Bardelli nell'ambito del processo Coingas nel filone multiservizi. Lucci era stato il primo di non eletti nella lista Oraghinelli 2025 alle elezioni amministrative dell'autunno 2020, oggi il primo giorno da consigliere comunale, non senza un pizzico di emozione. Non è una cosa di tutti i giorni rappresentare la cittadinanza nella sala comunale, quindi è la prima volta e da libero professionista geometra non capita neanche tanto spesso, almeno nella mia professione, nella mia esperienza relativa a parlare una platea così importante. Sono emozionato, orgoglioso e pronto a effettuare questo dovere civico per cui mi sono candidato nel 2020 e sono contento, anche se per non un'occasione felice, diciamo, di subentrare al consiglio Bardelli, a cui pongo i miei saluti. Farò questo lavoro nel miglior modo possibile, mettendo la mia disponibilità, la mia competenza professionale e umana al servizio della collettività.